Se pensi alle tue relazioni con famiglia, amici e colleghi, forse ti sarai accorto che spesso sei fisicamente presente ma non stai davvero ascoltando quello che l'altro ti sta dicendo. Infatti, studi scientifici dimostrano che siamo distratti o preoccupati il 75% del tempo in cui qualcuno sta parlando con noi e spesso dopo aver parlato con qualcuno ricordiamo solo il 50% di quello che ci ha detto, quello che abbiamo sentito. Perché succede? Perché spesso non siamo sintonizzati con l'altra persona, non stiamo portando veramente attenzione a quello che dice, a come lo dice, ma siamo come al solito, pensando, giudicando, ricordando, immaginando, valutando, programmando quello che dobbiamo fare dopo o programmando quello che vogliamo dire o quello che vorremmo cambiare dell'altro o di quello che l'altro sta dicendo, quanto siamo d'accordo o non siamo d'accordo. E quindi pensiamo a quello che abbiamo da dire riguardo a quell'argomento, se va bene, se siamo concentrati in qualche modo su quello che stiamo dicendo. E non ci sarebbe niente di male se non fosse che lasciare andare la nostra mente in questo modo, mentre l'altro parla, in realtà non ci permette davvero di ascoltarlo, di entrare in sintonia con lui. Quindi quando ci teniamo davvero all'altra persona che ci sta parlando o in generale vogliamo avere una buona relazione con l'altra persona, la prima cosa da fare è avere davvero l'intenzione di ascoltarlo con apertura e consapevolezza. E quindi questo si può allenare come la consapevolezza di altre, come altre tipologie di mindfulness di consapevolezza. E quindi ci si può provare tramite una pratica guidata che se ti va puoi provare adesso. Quindi prendi una posizione che sia per te sostenibile per un certo periodo di tempo, che sia quindi comoda ma soprattutto di apertura, accoglienza. Puoi anche chiudere gli occhi e iniziare a portare attenzione al tuo corpo, a ogni parte del corpo, in particolare a quelle in cui senti qualche tensione. E prova a respirare con la tua attenzione, la tua consapevolezza e prova ad ammorbidire e lasciare andare quelle tensioni. Il modo più semplice e immediato per iniziare ad allenare la tua consapevolezza all'ascolto è quello di esplorare i suoni che ci sono intorno a te. Quindi esplorare il momento presente attraverso l'udito. ricevi la sinfonia di suoni presente, qui e ora. fa che i tuoi sensi siano tutti ricettivi, il tuo corpo e la tua mente aperti all'esperienza di questo momento. Ed è importante che tu ti sintonizzi su quello che stai sentendo, sui suoni e le loro caratteristiche senza giudicare, cioè senza lasciarti andare a pensieri, valutazioni, ricordi, eccetera. Quindi ogni volta che ti distrai, torna a drizzare le orecchie ed esplorare con curiosità quello che arriva e che percepisci con il tuo dito. Prova a notare se ci sono vari tipi di suoni, quali sono le differenze di intensità, di ritmo e di durata dei rumori che puoi sentire in questo momento. E ogni volta che la tua mente ti distrae, non ti preoccupare perché è assolutamente normale e anzi ti può aiutare nell'esercizio, perché puoi cogliere l'occasione per riportare la tua attenzione ai suoni, a un ascolto consapevole di apertura e curiosità. Possono essere suoni che provengono dalla registrazione, che provengono dalla stanza in cui ti trovi o anche dall'esterno. quello che ti chiedo è semplicemente di rimanere in ascolto, cercando di non giudicare o valutare, ma semplicemente aperto e curioso a tutti i suoni che puoi sentire, uno alla volta, tutti insieme. Scegli tu. Grazie. Ogni volta che la tua mente si sposta dai suoni, prova gentilmente a riportarla ad essi. nel prossimo minuto ti farò ascoltare una melodia, una musica e ti chiedo di provare anche in questo caso ad aprire le tue orecchie e cercare di far cadere ogni singola nota dentro di te, di assaporarla, di sentirla, di notare cosa succede nel tuo corpo quando lascia entrare questi suoni dentro di te, quando li accogli e nota se per caso la tua mente si mette a valutare, se ti piace o non ti piace questa melodia, se la tua mente cerca di individuare quali sono gli strumenti usati, oppure se ti fa venire in mente qualcosa, inizia a ricordare. Quando ti accorgi di stare facendo questo tipo di valutazioni, quindi di pensare invece che semplicemente di ascoltare, ti chiedo di riportare delicatamente la tua attenzione di nuovo solo ai suoni che percepisci e a quello che tu provi mentre ascolti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Quindi la tua attenzione dà questa musica e ti chiedo se sei riuscito ad ascoltare, quanto sei riuscito ad ascoltare e la qualità del tuo ascolto. Hai notato di avere percepito qualcosa mentre l'ascoltavi? Qualche sensazione, qualche emozione? Magari hai anche notato che la tua mente vagava? E se sì, qual è stata la distrazione? Erano giudizi sulla musica, ricordi o altri rumori esterni? E almeno una qualche volta sei riuscito a riportare la tua attenzione alla musica? E se sì, che cos'è che ti ha aiutato a riportare la tua attenzione, la tua consapevolezza ai suoni? Proseguiamo ora ad allenare l'ascolto consapevole utilizzando la mia voce. Ti chiedo quindi di provare ad ascoltare la mia voce e quello che dirò in maniera curiosa e consapevole, partendo magari dal notare il tono, il volume, il ritmo delle parole che pronuncio. In un secondo momento prova a portare attenzione a quello che percepisci e solo dopo, sul significato. Sempre cercando di non valutare, giudicare, ma solo accogliere semplicemente parola dopo parola. Lasciarla cadere dentro di te e vedere che effetto fa. Sei pronto? Se impari ad ascoltare consapevolmente e con intenzione e volontà, le tue relazioni miglioreranno. Non solo quelle familiari, quella cui tieni di più, ma magari anche quelle lavorative. E quindi potrai usare questa abilità dell'ascolto consapevole in ogni area della tua vita. Quando intenzionalmente portiamo la nostra attenzione e consapevolezza l'uno all'altro, stiamo nutrendo le nostre relazioni, le rendiamo più ricche e significative. L'attenzione consapevole e l'ascolto consapevole può essere a volte la più profonda manifestazione di contatto e di amore verso l'altro. Sei riuscita ad ascoltare le mie parole? Pensi di averne ascoltate buona parte? E come ti sei sentito ascoltando queste parole? Hai forse notato la tua mente vagare? E se sì, qual è stata la distrazione? Erano giudizi, valutazioni su quello che dicevo o su come dicevo quelle parole? O forse erano ricordi? O stavi pensando anche a come tu potresti usare l'ascolto consapevole nella tua vita? Dov'è che è andata la tua mente quando sei allontanata dalla mia voce? Hai per caso notato qualcosa che ti ha aiutato a riportare la tua attenzione alle mie parole? In caso affermativo potrebbe esserti utile tutte le volte che ti accorgi di distrarti quando ascolti qualcuno trovare un punto di riferimento, un segnale, qualcosa che ti aiuti a riportare l'attenzione a quello che la persona sta dicendo. Ovviamente puoi continuare ad allenarti in questo modo, con questa pratica o anche con un ascolto nella tua vita quotidiana. La cosa importante che ti chiedo di fare ora per rendere la tua intenzione più concreta possibile è provare a immaginare una persona a cui tieni e con la quale vorresti avere un miglior ascolto consapevole scegline una e concentrati prima di tutto sulla tua intenzione di ascoltarla apertamente come hai fatto adesso con i suoni, con la musica e con la mia voce cercando di lasciare in secondo piano pensieri, giudizi, ricordi, ecc. E immagina ora che questa persona stia parlando e che tu stia ascoltando le parole il loro significato ma anche il tono con cui vengono pronunciate e ti concentra a cogliere queste parole con interesse lasciando andare eventuali distrazioni lasci cadere queste parole, le accogli e immagina di essere lì completamente per l'altro e per quello che l'altro ha da dire e non per valutare, giudicare, dire la tua o fare qualcosa attivamente ma una semplice presenza consapevole e ogni giudizio, valutazione o pensiero della tua mente può essere accolto come qualcosa di utile ma da prendere in considerazione in un secondo momento cioè dopo che avrai ascoltato consapevolmente come puoi valutare, giudicare, rispondere, dire la tua se non hai davvero ascoltato l'altro per allenarti puoi farla inizialmente ascoltando una qualsiasi comunicazione audio, video, in televisione, al cellulare, a computer o alla radio ponendoti come obiettivo quello di ascoltare con intenzione per un paio di minuti parola per parola di quello che viene detto e accogliere il significato in un secondo momento potresti provarlo anche in un dialogo al telefono o di persona e se lo fai di persona ti puoi concentrare anche sulla persona nel suo insieme cioè non solo su quello che dice ma anche su quello che comunica oltre le parole magari lo sguardo, l'espressione, il corpo sono tutti punti di riferimento che ti possono aiutare a mantenere l'attenzione sull'altra persona e su quello che l'altra persona sta dicendo invece di lasciarti prendere dai tuoi pensieri, ricordi, eccetera e provarci il prima possibile anche dopo questo ascolto e anche più volte senza scoraggiarti perché all'inizio se non sei abituato può sembrarti un po' difficile e spesso ti distrarrai è utile partire con obiettivi piccoli cioè con alcuni minuti di ascolto consapevole appunto magari senza interazione con l'altro così ti puoi concentrare davvero su quello che senti e poi piano piano puoi aumentare i minuti e anche l'interazione con le persone via via che farai pratica riporta ora la tua attenzione ai suoni che puoi percepire intorno a te sempre con apertura curiosità e non giudicare nota se c'è qualcosa di diverso rispetto a prima all'inizio della pratica magari puoi notare qualcosa che prima non avevi percepito perché magari molto lieve o lontano riesci anche a sentire i suoni prodotti dal tuo respiro prova a prestare attenzione senza giudicare con curiosità e apertura ai suoni che provengono dal tuo corpo dal tuo respiro e poi quando te la senti puoi riaprire delicatamente gli occhi fare qualche piccolo movimento per rientrare in contatto con la realtà o quello che si presenta davanti a te non solo con l'udito ma appunto anche con la vista e gli altri sensi e decidi ora in questo momento quando vorrai fare il tuo primo esercizio di ascolto consapevole nella tua vita quotidiana quando e che tipo di esercizio? televisione, radio, un video, una telefonata la persona che è nella stanza accanto a te scegli ora anche la durata parti con pochi minuti complimentati con te stesso per aver provato questo esercizio di ascolto consapevole e guidato e in bocca al lupo per i prossimi che farai non guidati grazie per aver ascoltato questa registrazione di MindfulAct.it Grazie per aver guardato il video